pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati siamo alla conclusione del discorso missionario e ci soffremiamo in particolare sulla seconda parte del vangelo di questa domenica che tratta un tema bello prezioso decisivo per la nostra vita saper accogliere partiamo dal vangelo per poi alcune sfaccettature a livello esistenziale di questo tema tanto pregnante gesù rivolgendosi ai suoi discepoli che sta inviando in missione dice chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato questa frase ci ricorda la dignità dell'inviato di gesù e fa trasparire l'unione profonda di gesù con noi i suoi discepoli dunque accogliendo un missionario un sacerdote una suora un laico che viene a visitarci nel nome di gesù significa accogliere gesù stesso san paolo colmo di stupore per l'accoglienza dei galati scrisse mi avete accolto come un angelo di dio come cristo gesù ecco ricordo anche la bella testimonianza di un sacerdote missionario si trovava in perù e una domenica mattina prima della messa va una donna a chiedergli accuratamente di andare a visitarla a casa perché aveva problemi seri con sua figlia che si era allontanata da lei ma anche da dio una storia di sofferenza questa donna fu abbandonata dal marito il giorno stesso in cui nacque la figlia questo sacerdote recandosi a casa di questa donna fu accolto con tanta gioia e questa donna gli disse padre che piacere venga dentro che gioia oggi il signore viene in casa mia e lui commentando diceva sono così i poveri dove ho vissuto per molti anni vedono in te quasi istintivamente la presenza di gesù ma andiamo più puntualmente al nostro argomento continuando gesù dice chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto qui abbiamo almeno due punti primo queste parole di gesù ci parlano di un modo di accogliere cioè io accolgo l'altro riconoscendone la dignità chi accoglie un profeta come profeta dunque riconosci quella persona come uno che ti annuncia la parola di dio ecco se tu lo accogli come tale avrai la sua ricompensa così un giusto che vive una vita giusta santa quindi magari l'accoglienza non è qualcosa soltanto di materiale di logistico ma è spirituale è il riconoscimento dell'altro della sua dignità del suo valore che diventa attenzione all'altro a ciò che l'altro mi dice e anche i suoi bisogni anche per un solo bicchiere d'acqua fresca non perderete la vostra ricompensa ma non solo abbiamo qui anche sullo sfondo la fecondità dell'accoglienza espressa nei termini della ricompensa c'è una grazia c'è una benedizione per quell'accoglienza data questo è preparato dalla prima lettura bellissima siamo nell'antico testamento il profeta eliseo viene ospitato da una nobile donna che ci tiene tantissimo alla sua presenza addirittura con il marito gli fanno preparare una stanza al piano superiore della casa dove il profeta di passaggio può riposare ritemprarsi pregare eliseo verrà a sapere dal servo che questa donna avrebbe tanto voluto avere un figlio chissà questa stanzetta forse l'aveva tenuta per un figlio che mai era arrivato e ormai stelli avanti negli anni non ci speravano neanche più tant'è che questa donna neanche l'ha detto al profeta e non gli ha chiesto di intercedere per lei la sua è stata un'accoglienza gratuita amorevole ricca di fede sarà eliseo a dirle tra un anno verrò e vi troverò con un figlio ecco la benedizione di dio potremmo dire la ricompensa in questo caso si è manifestata con una gravidanza ormai insperata mi cari c'è sempre una benedizione legata all'accogliere gli altri a partire da quella gioia meravigliosa della quale ci ha parlato san paolo c'è più gioia nel dare che nel ricevere ora miei cari a questo punto potremmo allargare un attimino la nostra riflessione abbiamo capito che accogliere il verbo deho mai in greco significa ospitare nella propria casa far spazio nella propria vita sentire capire l'altro andare incontro ai suoi bisogni potremmo dire miei cari siamo qui davanti all'effettività dell'amore tant'è che nel nuovo rito del matrimonio non si dice più io prendo te come mio sposo come mia sposa ma io accolgo te io accolgo te il dono che sei tu ti faccio spazio nella mia vita perché non sia solo più io ma diventiamo un noi noi potremmo distinguere diverse gradazioni di sfumature nel tema dell'accoglienza io ve ne indico due in primis accogliere ogni persona riconoscendone la dignità pensate in particolare all'accoglienza del fratello povero solitario bisognoso nel mondo biblico più ampiamente nel contesto semitico l'accoglienza è stata sempre considerata come qualcosa di sacro il cardinale ravasi raccontava di una sua esperienza accolto nel deserto giordano da una famiglia musulmana nella festa dello svezzamento del figlio il capofamiglia lo salutò dicendo il forestiero che dimora tra noi è da noi trattato come colui che è nato tra noi pensate nel libro biblico del levitico dio che si rivolge attraverso mosea al popolo di israele dicendo quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese non gli farete torto il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'egitto miei cari forse oggi questa sensibilità millenaria l'abbiamo un po smarrita impauriti presi da noi stessi dimentichi della vita dei nostri nonni bisnonni in molti casi abbiamo indurito il cuore pensate al tema enorme dell'immigrazione per carità accogliere vuol dire anche discernere accompagnare integrare ma accogliere anzitutto accogliere l'altro nella sua dignità ricordo due anedoti significativi che che fanno riflettere uno raccontato dal papa successo a roma c'era un rifugiato che cercava una strada una donna lo vide gli si avvicinò gli disse cerca qualcosa era senza scarpe quest'uomo e disse io vorrei andare a san pietro per entrare nella porta santa e la signora pensò ma non ha le scarpe come farà a camminare allora ha chiamato un taxi il tassista quasi non lo voleva far salire perché puzzava alla fine si è convinto e la donna nel taxi ha iniziato a dialogare con lui e gli ha chiesto la sua storia e quest'uomo ha raccontato nei dieci minuti di tragitto da dove veniva le sofferenze che aveva vissuto la guerra ora di scendere questa donna apre la borsetta e va per pagare e il tassista le dice no signora sono io che devo pagare lei perché lei mi ha fatto sentire una storia che mi ha cambiato il cuore questa signora sapeva cosa era il dolore di un migrante perché aveva il sangue armeno e conosceva la sofferenza del suo popolo ecco perché il papa ci ha ricordato di non cadere nella trappola del rinchiuderci noi stessi e proprio nella misura in cui ci apriamo agli altri che la vita diventa feconda che le società riacquistano la pace e le persone recuperano la loro piena dignità e mi viene in mente anche un altro aneddoto a messa un uomo distinto si gira per dare il segno della pace e dà la mano a un povero seduto dietro a lui quest'uomo lo guarda e gli dice allora oggi vengo a pranzo da lei quest'uomo si rigira imbarazzato e alla fine della messa cerca di andarsene senza incrociare quel povero ma se lo trova davanti all'uscita e il povero gli chiede mi scusi ma perché mi ha dato la pace se non è disposto ad aiutarmi eccomi cari abbiamo tutti bisogno di dilatare un po il nostro cuore riscoprire il valore dell'accoglienza e il valore che ha ogni singola persona ma c'è un secondo livello più profondo noi cristiani sappiamo che nell'altro possiamo intercettare il volto di gesù sempre in matteo 25 gesù dirà ero forestiero e mi avete ospitato dunque noi sappiamo che nell'altro possiamo intercettare servire amare cristo a volte nascosto quella coltre che la miseria la povertà il peccato ma noi sappiamo che lì possiamo incontrare gesù e il vangelo di oggi ci ha ricordato in modo speciale che possiamo accogliere gesù nel suo discepolo nei suoi missionari chi accoglie voi accoglie me cari fratelli e sorelle oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire il valore dell'accoglienza accogliere l'altro lo straniero far sentire accolte le persone che si affacciano nelle nostre comunità nelle parrocchie accogliere quanti ci portano gesù il suo annuncio la sua parola sapendoci per primi sempre e di nuovo accolti dal signore che ci ama come siamo che non si stanca mai di noi che ci accoglie sempre ci perdona sempre e allora come ci ha detto san paolo accoglietevi gli uni gli altri come cristo ha accolto voi e mi piace concludere ricordando una bella tradizione durante le feste ebraiche la porta di casa doveva restare socchiusa infatti se il messia avesse deciso di venire l'avrebbe trovata aperta e si sarebbe seduto a mensa con quella famiglia fortunata ma se non fosse venuto il messia i poveri che vagavano per le strade avrebbero potuto varcare quella soglia prendendo parte alla comune allegria e sarebbe stato come accogliere il messia nascosto nella sofferenza miei cari loro lo facevano sperando venisse il messia e noi che sappiamo che è già venuto e che si nasconde nei poveri e nei suoi discepoli cosa facciamo che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti